Rivoluzione Napoli, lavori allo stadio Maradona. Avete visto come potrebbe essere il nuovo stadio? Ecco le due principali novità. La stagione 2022-2023 per il Napoli è stata fantastica sotto tutti i punti di vista, in campo e fuori. Culla dei successi azzurri lo stadio Diego Armando Maradona di fuori grotta, che ha attirato sulle tribune tantissimi tifosi stranieri. La squadra azzurra ha dimostrato di aver fatto un passo in avanti straordinario rispetto agli ultimi anni anche sotto questo aspetto. Lo stadio Diego Armando Maradona è stato uno dei punti di forza di questa stagione, ma il prossimo 30 giugno bisognerà discutere nuovamente sulla casa del Napoli. Sarà il giorno infatti in cui scadrà la convenzione con il comune per l'utilizzo dell'impianto sportivo e sarà l'occasione di un incontro tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco Manfredi Per discutere su come migliorare l'esperienza stadio a tutti i tifosi un bel progetto, c'è già l'idea di De Laurentiis sarebbe innovativa e consisterebbe in questo. Il presidente azzurro vorrebbe ricevere una nuova convenzione centenaria di 99 anni per permettere al Napoli di non spostare la propria casa. Il comune di Napoli è d'accordo, c'è apertura a patto che il progetto sia di grande qualità e utile alla città. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, per il nuovo stadio Maradona ora c'è la volontà di ampliare i posti a sedere e non più di ridurli, come era da progetto nel 2015. Ma la novità più grande però resterebbe l'eliminazione della pista d'atletica. Il sindaco Manfredi al giornale Campano ha rivelato la volontà di voler lavorare ad un nuovo progetto. Vi piace quest'idea? Grazie mille! Grazie a tutti.